Quindi volevo dire quello che posso dire a tutti voi, al Presidente, mi perdonerà se prendo un po' così di aire, come si dice da piccoli, di disperdere la gioia, di sperperare l'allegria, proprio scialacquare la bellezza. Questo è di essere felici, perché per trasmettere la felicità bisogna essere felici e per trasmettere il dolore bisogna essere felici, sempre felici. Questa deve essere una religione, per questo gli artisti ha un senso religioso, non hanno bisogno di chiese e dogma. Quindi io con questo senso di felicità, Presidente, chiudo e la saluto, volevo solo farle soffiare in faccia da parte di tutti noi il vento della felicità. Grazie Presidente e grazie a tutti voi. Grazie.